Conoscere per gestire, un tassello della complessa rivoluzione dell'edilizia e del mutamento della figura del geometra e del progettista, è stato messo il 5 giugno 2015 alla Galleria Meravigli di Milano grazie all'evento organizzato da Groma, la società di servizi nata per gestire il patrimonio immobiliare del suo socio unico, la Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti, ponti rinnovabili e riqualificazione urbana come strumenti di sostenibilità ambientale Attraverso l'intervento del professor Giovanni Dotelli, docente del Politecnico di Milano abbiamo conosciuto un concetto che va oltre il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale Sì, io credo che la specializzazione riesca a dare un qualcosa in più proprio al geometra che ha fatto i 5 anni di superiori e in più riesce ad avvicinarlo al mondo del lavoro in un'altra maniera, più specializzato, con una capacità già di interagire con le aziende e soprattutto con il cantiere